Un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla FIPILI dove per lavori si segnalano rallentamenti tra Ginestra Fiorentina e la Strasigna in direzione Firenze e sono possibili disagi in direzione Livorno. Spostandoci in A1 in direzione Bologna, corsie di sinistra chiuse tra Firenze Sud e Firenze Scandicci. Si ricorda che per lavori fino alle 17 di oggi resterà chiuso il tratto tra Rioveggio e Aglio in entrambe le direzioni. In A12 sono ancora possibili disagi per un veicolo in fiamme al chilometro 102-900 tra Sarzana e Carrara in direzione Rosignano. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!